Siamo qui ancora una volta via Le Crispi, non per parlare dei parcheggi appena fatti, il passaggio pedonale, quello ciclo pedonale della De Benedictis, ma per parlare ancora una volta di Covid purtroppo. Covid-19, focolaio, in uno dei settori della De Benedictis che ospita 190 persone, 190 persone anziane che hanno bisogno di assistenza, che entrano e escono alcune ovviamente, perché non è una casa circondariale, è una casa di riposo, una casa dove socializzare, ebbene qualcosa non ha funzionato. Non è il terzo segreto di Fatima dire che se in un settore di 35 ospiti, 31 e non 18, 31 sono stati contagiati dal Covid-19, i tre operatori sanitari che operano all'interno di questo lotto sono tutte e tre affetti da Covid-19, ecco, c'è bisogno comunque di una verifica interna per controllare se qualche familiare è potuto arrivare, entrare all'interno della casa di riposo affetto da Covid-19, uno degli operatori sanitari. Ecco, ecco per il motivo per il quale il commissario Roberto Canzio ha cercato e ha richiesto una verifica interna, una verifica interna importante. C'è da dire, la notizia nella notizia, che il vaccino, le seconde e terze dosi, il booster, è stato importantissimo, fondamentale per la salute dei 31 ospiti, che sono tutti quanti praticamente senza sintomi, nessuno è stato ricoverato in ospedale, ed è un segnale importante questo che va sottolineato. Il vaccino, qui alla De Benedictis, è un esempio di sanità positiva. I 31 ospiti stanno bene, sono monitorati, stanno facendo quelle che sono le cure domiciliali per il Covid-19, nessuno ha sintomi importanti ed è un motivo che però deve confermare il fatto che c'è bisogno di maggiori controlli e simili episodi qui dentro non si devono più verificare.